L'ondata di freddo siberiano che sta colpendo l'Italia arriverà oggi anche in Sicilia, già ieri alcuni voli in partenza, in arrivo da Palermo e Catania sono stati cancellati, disagio anche nei collegamenti con le isole minori, interrotti per il forte vento e da queste ore le temperature saranno impicchiate, ma c'è allerta anche per la circolazione stadale. Grande freddo che è atteso già per questa notte in Sicilia, secondo le previsioni le temperature scenderanno di parecchi gradi e in alcuni punti sfioreranno lo zero anche al livello del mare, complice il vento la percezione del freddo sarà ancora maggiore soprattutto nelle ore notturne, per questo numerosi comuni hanno già attivato i piani di emergenza freddo, rivolti soprattutto alle migliaia di persone senza fissa dimore che più di altri sono a rischio per l'ondata di freddo. Catania, Trapani, Caltanisset sono in particolare in preallarme, come pure le altre città, oltre ai piani per tutelare i clochar, protezione civile e ANAS sono al lavoro per garantire i minori disagi possibili alla circolazione sulla rete stradale, presidiate le principali arterie, mentre i mezzi spargi sale sono già in funzione alla stade di montagna per evitare che si formi ghiaccio sull'asfalto. Anche il settore produttivo è in preallarme, soprattutto il comparto agricolo, Confarchicoltura Sicilia ha infatti predisposto una task force regionale per la gestione di eventuali emergenze.